Voglio un rapporto lampo prima della riunione. Certo. E anche dati riguardanti la fusione dell'ABC. Odora in avanti, vivrai con lei. Sei contenta? Posso ancora contare su di te sette giorni su sette e quattro ore al giorno? Sono una fretta, dura donna d'affari. Per il ciclo Top Comedy, il film Baby Boom. Martedì 16 febbraio alle 21.10 su TV 2000.